Ancora disagi per i cittadini piemontesi a causa della mancata ricezione del segnale RAI. Per affrontare con urgenza il problema, il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, ha convocato il presidente del Corecom, Bruno Geraci. Il presidente Cattaneo ricorda che sono ancora fra i 500 e i 600 mila gli abitanti piemontesi che non ricevono le trasmissioni regionali RAI, in particolare nelle province di Novara, VCO e Vercelli, in una parte dell'Alessandrino, in alcune zone collinari dell'Asigiano e in parte della collina della provincia di Torino.